Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale sono Divix, un'altra serata straordinaria perché l'Inter vince a Napoli e vince anche a Roma, due trasferte veramente difficili, due trasferte che mettono spesso e volentieri in difficoltà non soltanto la squadra nerazzurra. Questi sei punti nel corso della stagione, nel corso del campionato hanno peso effettivo veramente importante. È sempre facile dire questa partita è fondamentale, questa partita è fondamentale. Sicuramente era la prima occasione di creare un distacco tra noi e la seconda squadra che è in questo momento la Juventus. Da questo punto di vista sicuramente era una partita importante, però a mio avviso a prescindere dalla classifica, a prescindere dai punti, è molto più importante il discorso legato proprio alla difficoltà della trasferta. L'Inter in casa è uno squadrone e lo ha dimostrato, andare fuori e fare risultati anche netti, soprattutto non prendere gol ancora una volta, è un segnale che ci fa capire la maturità di questa squadra. Non solamente la forza, ma proprio la maturità e consapevolezza. Sono molto felice, ovviamente ci sono tante cose a dire, in particolare vi parlerò anche di quella che secondo me è la reale antagonista dell'Inter per la vittoria finale dello scudetto. Scrivetevi sotto cosa ne pensate, ma prima come sempre guardate il video, buona visione. Per commentare questa partita inizio dal fatto che si dica sempre l'Inter difende e poi ti punisce in contropiede. L'Inter è stata descritta, ho visto i commenti anche a fine periodo del tempo, come una squadra in difficoltà, come una squadra che stava dietro e ripartiva, come una squadra che fa un catenaccio e poi nelle due occasioni, la prima ovviamente regata da Lazio, colpisce e fa gol. In realtà io voglio fare una domanda a tutti i tifosi interisti, vi chiedo se questa sera avete mai avuto un momento in cui vi siate sentiti in pericolo. Visto che si sta facendo un parallelismo tra la Juventus di Allegri e l'Inter di Inzaghi, dicendo che sono due squadre che giocano catenacce e contropiede, io ho visto più di una gara della Juventus quest'anno, l'ho vista tante volte e ho visto in numerose occasioni una Juventus non in affanno, una Juventus in apnea. Cioè giocatori in area di rigore e soprattutto una squadra salvata quest'anno tantissime volte dal proprio portiere, che è quasi sempre il migliore in campo. Questa sera Sommer non fa parate, cioè Sommer non fa parate, mai, praticamente la Lazio può aver avuto anche in certi momenti il pallino del gioco, ma se poi andiamo a vedere le statistiche a fine partita, il possesso palla è addirittura a favore dell'Inter, sicuramente agevolata dal fatto che dopo il 2-0, dopo l'espulsione, ha tenuto sicuramente il pallone tra i piedi di più, ma non era così evidente il distacco. E ti rimporta, sono in ugual misura quella differenza che l'Inter sì ha avuto tante e clamorose occasioni per fare gol, clamorose occasioni per fare gol, il portiere da Lazio ha fatto un paio di parate importanti, mentre, ribadisco ancora una volta, Sommer praticamente non tocca mai palla durante tutta la partita. L'Inter è vero, in qualche momento sembra essere sotto palla, sembra essere in difesa, ma subisce pochissimi tiri ed è questa la reale forza di questa squadra. Chiunque gioca in difesa, perché anche senza Pavard, anche senza Levrai, anche senza Dufres, quindi con Darmian spostato, l'Inter riesce comunque a mantenere solidità difensiva e soprattutto ha una qualità nel palleggio, nella ripartenza, che poi costringe l'avversario a difendere in campo aperto. E quando difendi in campo aperto con giocatori come Marcos Turan, Lautaro Martinez, Michi Italian, Barella, ti fai male. C'è poco a dire, ti fai male perché loro sono giocatori di un'altra categoria. Andando nei singoli, alla fine vi dico anche il discorso delle rivali scudetto, andando nei singoli, faccio i commenti su alcuni giocatori. Il primo a Cerbi fischiato per tutta la gara, non ho capito perché, è stato silurato da Lazio quando ha preso Romagnoli. A me queste cose non è che piacciono tanto, perché nel calcio c'è poca gratitudine. Ma ha fatto una partita straordinaria, Romagnoli annullando completamente immobile. Bene anche Bissek, è un po' grezzo, ma questo ragazzo sta crescendo e migliorando e mi piace questa cosa. Soprattutto a livello di posizionamento e scelte tattiche, più che sulle situazioni difensive. Proprio le scelte tattiche sui quali nelle prime volte che l'avevo visto giocare avevo avuto dei dubbi, sta migliorando. Benissimo a mio avviso Bastoni, però se devo dirvi i migliori in campo, io voglio nominare tre giocatori. Il primo è Darmian, perché è sempre perfetto e chiudo così la mia valutazione di Matteo Darmian. Il secondo è Mkhitaryan. Avevo detto, forse esagerando qualche partita fa, che in alcuni momenti mi ricorda Zidane. Ovviamente è un'esagerazione, ma partita dopo partita sembra che sta ringiovanendo al posto che invecchiando. È sempre più forte, è sempre più qualitativo e sbaglia sempre meno. Quindi lo metto tre migliori questa sera e si meritava il gol. E il terzo è ovviamente il giocatore che ha fatto veramente fare un salto di qualità a questa squadra. Si chiama Marcos Turam. Segna anche oggi, segna ancora una volta. E vi invito non soltanto a guardare i numeri di Marcos Turam, perché adesso sta segnando, ma qualcuno dice assegna poco. Ma a ricordarvi che non ha mai fatto 90 minuti, perché è sempre sostituito, quindi ha giocato sicuramente meno di Lotharo Martinez. E in secondo luogo è un attaccante che corre tantissimo. E quando i giocatori corrono tantissimo è normale che poi sottoporta siano meno lucidi, perché utilizzano le energie per fare altro. Questa sera ha lottato Monleone ancora una volta in mezzo a tutti i difensori laziali. E come sempre ha la meglio su tutti, senza paura. E questi tre a mio avviso sono stati migliori in campo. Ovviamente devo menzionare anche Lotharo Martinez, che ancora una volta segna, non so più, sta sfondando e distruggendo qualsiasi tipo di record. Non so quanti gol voglio fare in questo campionato. L'Inter è forte, è fortissima. Siamo superiori anche alle critiche. Siamo superiori ai commenti di Erosiconi che provano a trovare dei difetti. Siamo superiori anche a chi dice che vinciamo rubando. Oggi ho visto un rigore clamoroso non assegnato all'Inter nel primo tempo, un fallo di mano come poche volte si vedono netti in Serie A. Non è stato neanche visionato dal VAR. Siamo superiori anche a questo. Riusciamo a vincere anche quando gli episodi sono sfavorevoli. E mentalmente per gli avversari vedere una squadra che va sui campi difficili, come quello di Roma, come quello di Napoli, e vince nettamente senza subire tiri in porta, vi assicuro che non è facile. Non è assolutamente facile. Vi avevo promesso che avrei parlato delle rivali Scudetto. Ovviamente l'Inter è in prima fila in questo momento, non soltanto per la classifica, ma per me, per quello che ha dimostrato nel corso del campionato. Io però mi dispiace, non me ne vogliono gli Juventini. Non riesco a dare credito alla Juventus, alla squadra di Allegri. Perché come avevo detto nel video, l'ho vista tante volte quest'anno. Ho avuto modo di guardare la Juventus tante volte quest'anno. E ogni volta che guardo la Juventus ho sempre l'impressione che sfanghino le partite con episodi e con la fortuna. Puoi vincere una partita con la fortuna, puoi vincere la Champions League con la fortuna. È difficile che tu possa essere vincente in un campionato con la fortuna, a meno che a gennaio loro non intervengano e migliorino questa squadra, aggiungendo soprattutto qualità nel centrocampo in particolare. Se non faranno questa cosa, io non riesco a vederla come la principale antagonista dell'Inter. Hanno avuto episodi e partite a favore. Invece, mio malgrado, perché sapete che li considero sempre i miei piacermi rivali, devo ammettere che il Milan ha avuto una serie di infortuni pesanti ed è rarissimo vedere una squadra che ha subito così tanti infortuni e credo se avesse avuto tutta la rosa al completo adesso sarebbero loro dietro di noi e quindi il mio conto quando devo guardare gli avversari ha sempre un occhio riguardo verso il Milan perché secondo me quando recuperavano tutti i giocatori sono quelli che hanno più qualità e quindi sono contento di essere avanti ma guardo con attenzione quello che succede dietro perché ci sono tante squadre che stanno performando sotto il loro potenziale a partire dal Milan ma anche e soprattutto il Napoli che ovviamente essendo campione d'Italia potrebbe anche riprendersi. Scrivete qui sotto cosa ne pensate della partita di oggi chi è secondo voi il migliore in campo noi ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'Inter iscrivetevi, ciao ragazzi!